Non c'è nessuna tracciatura dei movimenti, voglio ricordarvelo, questa è veramente fake news e nessuna tecnologia da sola funziona, abbiamo sempre parlato, come fa l'OMS da mesi, delle famose 3T, cioè test, tracciatura e trattamento, solo tutte e tre insieme funzionano, certamente non c'è nessuna magica app che possa risolvere il problema del virus. L'app aiuta le autorità sanitarie a ricostruire i contatti nel passato, ma l'app non ci dice se c'è qualcuno infetto intorno a noi, sono tutte ricostruzioni assolutamente fantasiose, è una specie di agenda digitale delle persone che abbiamo incontrato a distanza ravvicinata e quindi nel caso in cui qualcuno di noi sia positivo vengono avvertite in maniera anonima dalle autorità sanitarie. Serve solo per fare molto più in fretta l'intervento di isolamento e quarantena, non serve per tracciare le persone, ricordiamo che serve soltanto per ricordare in maniera precisa i contatti che abbiamo avuto, quindi è una facilitazione del medico, non è un'ispezione occhiuta del grande fratello, ricordiamolo perché altrimenti è un grande equivoco. Ci ho detto funziona da sola senza test e senza treat, no certo che non funziona perché abbiamo detto bene a cosa serve la tracciabilità, a indirizzare molto rapidamente i test, in modo tale che si facciano i test non a caso soltanto, ma proprio sulle catene trasmissive. A questo serve l'app, a indirizzare i test che abbiamo sulle catene trasmissive in modo da comprendere se ci sono appunto dei focolai, pensiamo agli ospedali, pensiamo all'RSA, a questo serve l'app, a intervenire con rapidità laddove oggi invece lo facciamo al telefono con ritardo e abbiamo visto che il virus ha cicli di trasmissione, cicli di riproduzione troppo veloci per poter essere inseguito con mezzi manuali.